Ciao a tutti, siamo Kim e Valentina, questa sera abbiamo il pacco che è arrivato oggi, che oggi è il 20 luglio, che è la De Gustabox, è la prima volta che la prendiamo, non l'abbiamo mai provata, quindi sinceramente rimane anche aperta, quindi sappiamo ancora cosa c'è dentro, sappiamo solo che ogni mese cambiano prodotti, quindi vorremmo provare cosa c'era dentro, per spiegare cosa ha De Gustabox. Ci sono dei 9 ai 15 prodotti e che arriva ogni 20 del mese e che praticamente l'abbonamento sarebbe da 15,99 euro, però per la prima volta, la prima box, costerebbe 9,99 euro. Sì, inizio è gratuito, arrivo con il corriere, arrivo in casa, quindi è buono perché comunque c'è dei prodotti che ancora non sono in commercio, giusto che ancora non hanno messo nei... Sì, quindi... E ripaghi comunque un prezzo minore di come le pagheresti comunque al supermercato. Sì, quindi è una cosa buona e anche da provare. Adesso l'apriamo, cioè l'abbiamo già scattata, però ancora dentro sappiamo cosa c'è. Siamo curiosi, giusto? Dai, io ti mi apriva, su. Atri tu fuori di là. Dai. Sono... Sono agitato. Per rimangare. Ah, sì, per rimangare. Non vedete tutto io. Tolo, tolo. Allora, questo qui è quello che è il fascicolo. Sì, però così guardi c'è i prodotti che ci sono dentro. No, infatti non ho guardato. Non guarda. No, io non guardo. Sono curioso. Ehm, vabbè, facciamo qui comunque cosa c'è dentro. Però vabbè, noi non lo guardiamo perché sennò, dobbiamo guardare meglio i prodotti. Questo... E questo, vi. Ok. Vabbè, comunque, prima cosa che vediamo sono le patatine. Che sarebbero queste? Non so come sono. Divo, quelle del digore. Ah, sì, è vero. Sono con gli arachidi. Vabbè, devono essere comunque buone, penso. Giusto? Apre. Andi, qualcosa tu. Vediamo un po'. Dove prende Valentina. Ceci. Ceci snack. Che figata. Non lo ho mai assaggiati. Sì. E' così buono, tipo i vostri amicini. Vedete, amici. Questo qua è uguale, però comunque ci c'è quel... Che caccia. C'è ci snack, è sempre uguale. È uguale. Perché lui? Non lo so. Sempre uguale, guardate. Vabbè. Poi, poi. Poi un pozzettino di plastica. Interessante, eh. Poi c'è una marmellata con frutti rossi e melograno. In cui Valentina non le piace, le marmellate non le piacciono. No, no. A me. Sì, dai. Mi possono anche piacere. Te lo mangio lo stesso. Vai. Prego. Allora, io prendo la cosa. La signorina. La sprite. Non so perché c'è una sprite. Beh, penso di cosa si conosce, però. Vabbè, comunque. Vabbè, comunque. Questi tipo, oh che carine, sono le caramelle della frutella con i koala. Molto, molto carine. E ti piacciono, vero? Sì, io adoro la frutella, però sono quei vari a cubetti. Sì. Quale? Questa cosa qua che mi ispirava, che sarebbe, boh, no, via. Vedici i numeri. Vedo un po'. Ok. Poi, poi ci sono lo hacker. Ma come cavolo sono stirati? Al limone. Dovrebbero essere, sì, al lemon. Ma proviamoli, non li ho mai assaggiati, sinceramente. Proviamoli. Quelli alla vaniglia. La vaniglia nella olia. Sicuramente mi è una nausea, diciamo, cascata. Poi, la sprite. Zero. Zero. Questa non l'ho mai provata, però... Proviamola, dai. Anzi, no no. Anzi, no l'ho mai provata, sinceramente. Voi, io, no? Questa non è... Questa non è quale cazzo, carola sia. Aprilo, no? La birra, mi sembra, no? Perugina, ho scritto. Perugina? Sì, perché faccio, sì. No, non è perugina. No, divene se c'è che c'è questo perugino, invece no, c'è una birra allora, una cannota, una birra dai, una birra Peroni, speriamo che è buona, io per la birra, io vado molto la birra, poi, ultime cose, c'è le piadine, i cereali mio bianco, questi ragazzi ho già assaggiati, però mi sembra fosse di un'altra marca, non sono mali, però sono più quelli semplici, sinceramente, poi l'ultimo, per chi devo passare a prendere le cose di confezione? E' una salsa yogurt, ah, una salsa yogurt, interessante, ah questa qua è già assaggiata, io no, è tipo simile la maionese, tipo? Sì, però, è simile? Beh, comunque abbiamo finito la degusta box, pensavamo comunque c'era un po' di più, però, vabbè, nelle altre degusta box avevo visto un po' di più, sinceramente, questo mese non ho visto tanto, a parte anche l'aspetto comunque che già si conosce, vabbè, però, pazienza, poi due prodotti uguali, dei ceci, dei snack, non è che abbiamo visto, chissà quanto, però, sì, ci sono i cagnolini che rompono le palle, adesso ve li presentiamo velocemente, Nico a Gaia, questo è meraviglia, meravigliosa, è Gaia, ha cinque anni, è umeticcio, molto, molto tenera, brava, cura le due sorelline, vero? Vero Gaia e te cura le due sorelline? Sì, bacini, poi c'è la tremenda che si chiama Zoe, stella, aspetta, la puoi diventare te, dai, lei è la tremenda Zoe, che è un beagle, stella, sì, sarà un po' difficile, presentarle, sì, questa qui è un simile pastor tedesco, che si chiama Stella e ha quattro mesi, è un disastro, è un disastro, e lei c'ha un anno, la Zoe, che è un beagle, sono due che giocano sempre, sono un casino, è vero? Non potete mangiare? No, Zoe no, tu mami, tu mami, guarda le camera, guarda, 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 tremenda, 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 brava, si, non avete mai la pelata di Zoe, ahia, si, sono, guarda, con un casino, la mattina con la sera, continuano a mordersi tutto il giorno, ahia, si, infatti mordono, madonna, grazie, sì, prende la signorina Stella, che è una grassona, è praticamente sfonda alla sedia, no, perché è normale, se non è lei, vero Abelix? Va bene, allora, andiamo qua al video, erano 12 prodotti, giusto? Yes, questo era il mese di luglio, vedremo se il prossimo mese, lo prenderemo, vediamo un po', vediamo, sembra alla fine, cioè è bello perché comunque è una sorpresa, non sai cosa c'è dentro? Sì, infatti è bello perché comunque è una sorpresa, quindi a me piacciono le sorprese, tipo eravamo in ansia da quando è arrivata? Sì, li proviamo i prodotti, vediamo un po', se ci piacciono quello che è, e basta, vi salutiamo, vi mandiamo la buonanotte, buonanotte, dipendendo da dove è arrivata, sì, infatti, qua è, che sono? Sanno le 9 di sera? Ecco, quando voi le guarderete, buongiorno, buonanotte, buona sera, quello che sia, va bene, allora vi mandiamo un bacio, ciao a tutti!